Ti ricordi il 4 febbraio del 2021? Sembra passata un'eternità. Primo giorno di Marco Pomante sulla panchina del Pineto, poi arriva il Covid, otto partite da recuperare, zona retrocessione, cinque mesi, vittoria dei play-off. Mi viene da piangere, mi ricordo tutti i giorni che sono subentrato, tutte le difficoltà che abbiamo trovato. Sono contentissimo, sono contentissimo soprattutto per la società che se lo merita. I ragazzi, lo dico sempre, hanno fatto tanti di quei sacrifici che ragazzi non vi rendete conto perché non è facile stare due mesi fermi con 15-16 ragazzi malati per il Covid, allenarti 10-11 alla volta, tutti i giorni, perché io poi mi rendo conto che sono stato un bel martello. E loro mi hanno sopportato e supportato soprattutto nei momenti di difficoltà e poi, normale, questo lo dico sempre, la vittoria oggi play-off per me è una grandissima soddisfazione. Sono troppo contento, ma sono contento soprattutto per la società e per i ragazzi. Martello che però ha dato un'organizzazione incredibile a questa squadra, praticamente pochissimi punti lasciati per strada, solidità difensiva che non conosciamo almeno all'inizio dell'anno a questo Pineto. Qual è stato l'ingrediente, secondo Marco Pomante, che ha definito il Pineto in maniera più importante? Ma è normale che, lo dico sempre, io avevo una squadra forte, formata da elementi veramente di qualcuno di categoria superiore. Altri giocatori che questo campionato l'hanno vinto 4-5 volte. Io sono stato bravo, io insieme al mio staff, lo so Torino, insieme al mio staff, diciamo a mettere i giocatori al posto giusto e a farli rendere al massimo. E questi sono i risultati. Misere, il percorso è certamente lusinghiero, però secondo posto in campionato e secondo posto ai play-off, difficile un po' da digerire, benché il piazzamento sia di quelli prestigiosi. Il secondo posto in campionato rimane che abbiamo fatto un grande campionato, abbiamo lottato fino a tre partite alla fine con una guarazzata come il Campobasso. E quello rimane. Grande campionato, ci abbiamo creduto perché è vero che ci abbiamo creduto. E poi sono stati i play-off che secondo me noi ci abbiamo messo il massimo per cercare di portare a casa, però non hanno significato queste due partite dell'annata. Perché credo che è normale che il campionato non ha andamento. Noi abbiamo speso tanto a livello mentale, siamo arrivati a questi play-off veramente stanchi mentalmente. Perché poi quando hai un obiettivo importante come vincere un campionato ti logora. Quindi siamo arrivati a questi play-off, ci siamo divertiti, volevamo vincerli. Penso che oggi abbiamo dimostrato che squadra siamo. Perché credo che nonostante il gol preso ci rimane un po' da mare in bocca per tutto quello che è successo. Poi credo che questa squadra ha dimostrato ovviamente di giocare bene a calcio, di fare bene le cose. Abbiamo creato tante di quelle occasioni da gol che oggi solo la Dea ha bendata, ci ha girato le spalle. Quindi se c'era una squadra oggi che meritava di vincere è notalesco e penso di non essere assolutamente presuntuosa a dirlo. Ma dati alla mano credo che meritavamo noi. Però è una bella partita, ci siamo divertiti. Mi dispiace vedere i ragazzi tristi per questa finale. Ma non scalfisce assolutamente tutto quello di buono che abbiamo fatto. Grazie a tutti.